Buonasera, sta per iniziare la prima puntata di Rotocalcio, rimanete con noi. Quarta stagione di Rotocalcio, ancora una volta sui canali del gruppo Media One, in diretta sul 19 del Digitale Terrestre, sta per iniziare la prima puntata di questa nuovissima edizione, rinnovata in qualche componente, in qualche aggiustamento, ma certamente che non ha perso i canoni, i pilastri fondatori di questa stessa trasmissione. Intanto un saluto e un abbraccio a tutti voi tifosi affezionatissimi da casa e bentornati a Rotocalcio. Il nostro salotto fatto questa sera da amici, amici di quelli veri, c'è un grande amico giornalista, conduttore, da sempre su 7 Gold, salutiamo e ringraziamo per essere con noi, alla primissima, Simone Arribani. La sua chitarra, Sciorina, note davvero eccezionali, è una poesia jazz, ma è lui naturalmente un grande appassionato di cose di calcio e soprattutto di cose rosa nero, il musicista Sergio Munafo. Grazie e buonasera a tutti. Non è ospite, perché quest'anno ha cambiato ruolo, lo troverete con noi in ogni puntata in un'altra veste, metterà sale, pepe, peperoncino, bastone, carote, ne avrà per tutto, interagirà con noi il direttore di Rotocalcio.org, Michele Sardo. Grazie, grazie, Toni. Un piccolo inciso lo posso fare? Assolutamente devi. Che sono sempre invadente, anche se sono in poltroncina. Abbiamo iniziato quattro anni fa a Telesud ed eravamo in piedi, secondo anno e terzo anno eravamo seduti, quarto anno tu sei di nuovo in piedi, evidentemente sei ringiovanito, io sono in poltroncina, l'anno prossimo vengo direttamente nel lettino. Ma assolutamente. A parte lo scherzo, sono contento comunque di essere in poltroncina, perché quelle sedioline erano molto scomune. Ne beneficerà la tua schiena. L'avete vista nel pre-puntata, annunciare una nostra nuova collaboratrice, si alternerà con un'altra ragazza, Maura Di Girolamo. Buonasera, Maura. Buonasera. Cari telespettatori, potrete interagire con noi tramite messaggio o tramite WhatsApp al numero 342 78 25 790. Vi aspettiamo numerosi i vostri messaggi perché il modulo di contatto a vostra disposizione deve essere assolutamente usato perché la vostra opinione è importantissima. È importante anche l'informazione, secondo pilastro fondante di Rotocalcio. I nostri ragazzi sono già all'opera, questa sera al desk Luca Bucceri e Gerry Fazio. Ciao ragazzi. Buonasera Tony. Un'amara trasferta, quella di San Siro contro il Milan per il Rosa, che impattano nella giornata perfetta di Carlos Bacca e nella punizione magistrale di Jack Bonaventura. Solo un'illusione. La doppietta di Oscar Iliemark, una partita che lascia il Rosa a bocca asciutta, però fa tornare a Palermo il Rosa con due uomini in meno. Infatti sono ai box Uros-Giurgevic e Stefano Sorrentino per una sosta al box per lungo tempo. Stefano Sorrentino domani non ci sarà contro il Sassuolo a scopo precauzionale. Match contro il Sassuolo nel quale il Rosa dovranno riprendere il cammino iniziato all'inizio di stragione con le tre partite iniziali. Sì, come detto, domani arriva il Sassuolo, squadra molto temibile, che ha già fatto pareggiare il 2-2 la Roma all'Olimpico, mettendola più volte in difficoltà. Dunque ricordiamo che nel back office stanno lavorando i nostri redattori, ricordiamo di Max Carrà, Giulia Pumo, Serpino Bisso, Martino Giordano. Quindi per tutte le altre notizie collegatevi al nostro sito web rotocalcio.org. Buon lavoro ragazzi, mi raccomando, ci sarà anche da aggiornarci perché ci sono degli eventi importanti in diretta. La Serie A quest'anno, ma come l'anno scorso, con lo spezzatino e con le nuove sezionali, per cui tutti gli aggiornamenti saranno curati da Luca e Geri, dai ragazzi che stanno collaborando in back office. Terzo, ma non ultimo, fondamentale pilastro di questa edizione di rotocalcio è quello dei tifosi. Collabora con noi da tanti anni, quest'anno invece vuole essere parte attiva, in diretta nella trasmissione, la mia amica Alessandra Traina. Ciao, buon lavoro. Grazie Tony, buonasera, ben trovati anche da parte mia a questa prima puntata di rotocalcio. Io vado subito a presentare i tifosi doc che abbiamo questa sera in studio. È un volto già noto, ho partecipato anche ad altre edizioni di rotocalcio. È il presidente di Videloca Eventi e Menaggi, mentre il referente TM Italia, Tiberio Cantapia. Buonasera a tutti i tifosi del Palermo, buonasera a tutti i vostri ospiti. E poi abbiamo anche un universitario giovanissimo in scienze del turismo, è un tifoso da quando ne avevi otto, Elio Zapparata. Grazie ragazzi e buonasera. Bene Tony, noi parleremo con loro, sentiremo le loro opinioni su questa purtroppo prima sconfitta stagionale del Palermo, speriamo anche l'ultima. E parleremo con loro insomma dei singoli, della prossima partita col sassuolo. Insomma c'è tanta carne al fuoco, vedremo un po' durante la puntata quali sono le loro opinioni? Molto volentieri, intanto sentiamo subito l'opinione del nostro direttore, di Michele Sardo, perché è una sconfitta col Milan e ci può sempre stare. Insomma è una blasonata, si gioca a San Siro, campo certamente importante che può incutere timore a qualche ragazzo giovane, anche se in questa partita il timore l'hanno avuto forse più gli anziani. Ma certamente una sconfitta che pone molti quesiti al proseguo del cammino del Palermo. Bene, ci può stare contro il Milan, è una squadra blasonata, probabilmente il Palermo fatto di giovani ha pagato sicuramente il fatto di giocare contro una squadra così importante, però è anche vero che a mio avviso la squadra ha rinunciato a giocare, soprattutto nel primo tempo, in balia dell'avversaria, anche perché è stata messa male in campo. Probabilmente si poteva evitare di rinunciare a giocatori di esperienza, visto che giocavamo contro il Milan, come Girardino, che io avrei schierato dal primo minuto. Avrei provato a andare in campo Rigoni, che sì è vero che veniva da un piccolo infortunio, però erano già due settimane, aveva solo un dolore all'alluce, probabilmente con un antidolorifico si poteva mandare in campo dal primo minuto. Dopodiché ho visto un Palermo che ha giocato quelle poche azioni che ha sviluppato nel primo tempo, le ha sviluppate sulla parte sinistra del campo, mentre a destra il Palermo non ha giocato proprio. Si è visto un po' nel secondo tempo l'apporto di Ilemarch, probabilmente negli spogliatoi Iachini avrà fatto qualche piccolo correttivo, perché Ilemarch nel secondo tempo ha giocato nella parte destra del campo, ha dato un apporto fondamentale, infatti il Palermo ha giocato molto meglio e ha rischiato anche di pareggiare contro il Milan, perché nel frattempo aveva anche preso coraggio. Siccome voglio riacganciarmi a quanto dice Michele, c'è la supposizione che il Palermo fosse stato schierato per lo meno nel primo tempo male in campo, D'altra parte Iachini, così un po' a sorpresa, ha cambiato modo, l'abbandonando la difesa 3 per una non meglio collaudata difesa 4 e alcuni equilibri probabilmente, grazie anche all'assenza di uomini fondamentali, sono venuti a mancare. Sì, diciamo che primo Achitto, leggendo le distinte, sono rimasto sorpreso da questa posizione inedita di Struna, schierato terzino destro, anche se poi alla fine è stato probabilmente il migliore, nonostante la serata negativa del pacchetto arretrato rosa-nero, proprio Struna. Condivido la disamina che ha fatto Michele, aggiungo però una cosa, il Palermo paradossalmente aveva bisogno di questa sconfitta, perché queste sono delle partite molto importanti dal punto di vista psicologico per andare poi a cementificare quella che sarà l'intesa non soltanto in campo, ma anche nello spogliatoio. Dal punto di vista psicologico, questa squadra, secondo il mio modo di vedere le cose, è chiaro che i sette punti uno se li deve prendere perché sono un'autentica manna dal cielo e ricordiamoci sempre che l'obiettivo primario di questa squadra resta la salvezza. Fatta questa doverosa premessa, dico che il Palermo sin qui aveva raccolto probabilmente molto di più rispetto a quello che aveva costruito in campo. Mi viene per esempio in mente la prima frazione di gioco disputata al Barbera contro il Genua, molto bugiarda, dove la squadra di Gasperini oggettivamente aveva giocato meglio. Poi nella ripresa è uscito il Palermo e fortunatamente all'ultimo sussulto è arrivato il gol del nuovo innesto El Cautari. Penso anche alla trasferta del nuovo Friuli contro l'Udinese, una partita assolutamente bugiarda andando a vedere il tabellino. Un'azione magistrale imbastita da Vasquez e poi confezionata da un grande inserimento, un suo marchio di fabbrico, ora me da due anni a questa parte di Rigoni. Però se andiamo a vedere al netto di tutte quelle che sono le occasioni da gol costruite dall'Udinese, dobbiamo ringraziare Terò e soprattutto Sapate in quell'occasione che non avevano ancora aggiustato il tiro. Il pareggio con il Carpi, per quanto criticato in maniera efferata da tutti, è il risultato più giusto. Castori ha costruito questa partita e ha messo in campo una squadra gaiarda. E poi ricordiamoci anche che il Carpi, forse molti tifosi oramai si sono abituati nuovamente all'atmosfera della Serie A, è una cosa positiva. Il Carpi ricordiamoci che è stata la nostra bestia nera, perché ha fatto un pareggio in Serie A e poi ha vinto due volte nel campionato cadetto, il dominato lungo e largo dal Palermo. E aggiungo una cosa, Castori lo vedrete col tempo, insieme a Saria, al nostro stratega Iachini, è uno degli allenatori italiani più preparati in questo momento. Chiudo dicendo che la gara con il Milan è stata la fotografia, secondo me, ahimè giusta, anche se ci sono delle cose da vedere. Per esempio il gol di Bonaventura, sentivo prima i ragazzi, una punizione magistrale, sono d'accordo con loro, ma Iachini si è imbestialito giustamente, perché andando a rivedere i rallenti non c'era quella punizione. Però è un episodio, il Palermo oggettivamente ha meritato di perdere. Io non sono del tutto d'accordo con Simone, sul fatto che, da questo punto di vista, vorrei sentire anche il parere di Sergio Bunafo, sul fatto che questa sconfitta possa fare bene. Perché fino ad ora, secondo me, anche negli anni passati, ma soprattutto perché il Palermo è una squadra giovane, Iachini ha dimostrato che la sua forza principale è il gruppo. Se già si comincia a smontare, cominciando a perdere delle partite, secondo me può fare male alla testa, a livello psicologico. Ma secondo me comunque questa partita ha fatto vedere i punti nevralgici del Palermo. All'inizio campionato sembrava che la difesa fosse il punto forte di questa squadra, che fosse stata così imbastita una difesa più rocciosa di quella dell'anno scorso. Invece, da questa partita ci ha fatto vedere, come ha detto il nostro Presidente, una difesa colabrodo. Per cui quello che all'inizio sembrava una cosa così nata bene, non è andata in questa maniera. Sergio, voglio interagire con te in questo senso, può essere un difetto di questa difesa il fatto che in queste quattro partite non abbiamo mai visto gli stessi protagonisti? Cioè una volta ha giocato Vitiello con Gonzales e del Cautari, un'altra volta ha giocato Struna nella difesa a tre, un'altra volta ancora Struna nella difesa a quattro, insomma alcuni automatismi probabilmente sono ancora perfezionali, ma per perfezionali bisogna comunque giocare con i titolari. Infatti, e poi a Milano appunto non ci puoi andare senza avere collaudato bene questo reparto, perché a Milano il primo errore lo paghi, come infatti si è visto, alla prima discesa Bacca ha messo dentro quella palla per il suo errore di Gonzales. Per cui il reparto, la difesa è quello che deve essere il più rodato, quindi siamo arrivati lì un pochettino sbilanciati da questo punto di vista. Poi approfondiremo sui singoli. Tony, posso rimanere in argomento in cinque secondi e dire una cosa. L'anno scorso avevamo, non me ne voglia perché dal punto di vista umano è probabilmente una persona integgerrima e merita tutta la nostra stima e il nostro affetto, ma il buon Sinisangelkovic l'anno scorso ha combinato più danni della grandine. Danni che fortunatamente erano, come dire, mascherati in maniera più che greggia da un certo Pipo Gonzales. Quest'anno, dobbiamo dire la verità, e io sono molto sorpreso, Gonzales sta probabilmente cercando di non far sentire i tifosi del Palermo all'assenza del suo amico Angelkovic, perché nelle prime partite oggettivamente ho visto un Gonzales. Però c'è anche da dire una cosa. Io non dimentico un aspetto fondamentale, che sono questi voli benedetti, anche per due amichevoli con la Costa Rica. Io ammiro i giocatori che hanno questo profondo spirito di attaccamento alla maglia della loro nazionale. Probabilmente questi, messi insieme uno di fila a stretto gira di posta, hanno condizionato anche il rendimento fisico di questo giocatore. Però se dobbiamo andare ad analizzare bene le partite, le due gare, la prima con il Geno e la seconda con l'Udinese, avevano fornito un'istantanea errata di questa difesa. Sì, però prima di andare sui singoli, perché sicuramente ci andremo nella seconda parte, io vorrei porre un interrogativo, probabilmente ne parleremo dopo, perché forse dobbiamo andare un attimino anche dai tifosi, per quanto riguarda Iachini, perché io ritengo che Iachini di quest'anno sia un po' in confusione. Probabilmente è in confusione per colpa di Zamparini, perché Zamparini lo sta prestando tanto. Io vorrei dire che questo argomento... Sì, sì, ne parliamo dopo, però è un aspetto che mi piacerebbe approfondire. E allora, su quanto si è detto in questo salotto, io vorrei velocemente sentire gli amici di Alessandra Traina, un loro breve parere, perché poi c'è una sorpresa per voi. A te la parola, Alessandra, gestisciti i tuoi ospiti, fai uscire fuori quello che sento. Tiberio, quindi una partita contro il Milan, una sconfitta ci poteva anche stare, ma magari quindi c'è stato un approccio sbagliato del Palermo? Guarda, di sicuro il fatto del modulo sicuramente non è aiutato, perché la difesa 4 è stato più collaborato di una difesa 3 che ha usato anche in altre situazioni lo stesso Iachini. Sicuramente giocare senza Gilardino, prima punta, che magari a Milano avrebbe potuto fare differenza anche quanto ex, visto anche l'esperienza di Gilardino, poteva essere determinante. E di sicuro ancora questo modulo, chiamiamolo ad albero di Natale, di mister Iachini con Quaisson e Vasquez dietro a Giurgevic, che al momento non sono così determinanti. Probabilmente Vasquez ancora deve trovare il compagno adatto. Il compagno adatto fino ad adesso di Vasquez è stato Rigoni, che ha fatto due gol, se non sbaglio, nelle prime due partite. E al momento i centrocampisti hanno segnato più gli attaccanti, quindi c'è qualcosa che non va. Questo è un messaggio per Iachini, come diceva prima Michele, che dovrebbe essere forse ascoltato. C'è qualcosa che non va in attacco, quindi forse è il caso di sistemarla. Elio, tu pensi che comunque, nonostante la doppietta di Iliemark, purtroppo non abbiamo portato neanche un punto a casa, magari il pareggio secondo te sarebbe stato un risultato più giusto? Sarebbe stato più giusto magari anche per il morale, sicuramente. Nonostante questo, come già aveva detto precedentemente Michele, giustamente la difesa non è stata nelle sue migliori condizioni, quindi è pur vero che giocavamo a Milano. Quindi diciamo che una sconfitta, magari anche con questa difesa, era anche un po' da aspettarsi. Dispiace, però pensiamo già alla prossima partita, che è domani con il Sassuolo, che sarà un'altra partita, secondo me, ancora più difficile. Bene, Toni. Grazie Alessandra, grazie a Tiberio, a Delio. Michele, quest'anno abbiamo deciso di andare noi dai tifosi, invitandoli naturalmente a poter interagire in diretta sempre al numero di WhatsApp che vedete in sovraimpressione, ma lo facciamo quest'anno con la nostra redazione. Dove andranno in giro questi ragazzi? Naturalmente noi tendiamo sempre a dare la parola sempre di più ai tifosi, con i messaggi, con il nostro club, ma quest'anno abbiamo deciso di andare proprio nei mercati, di andare tra la gente a fare i sondaggi, a chiedere loro stessi cosa ne pensano della partita, vedremo anche più in là i migliori e i peggiori, quindi li sentiremo dalle loro parole i nostri servizi. Quindi questa settimana siamo andati al mercato di Ballarocce, ci sono andati per noi Gerri Fazio e Roberto Pedivellano e hanno realizzato due bei servizi. Il primo lo vediamo subito, è un servizio realizzato da Roberto Pedivellano, sentiamo il commento dei tifosi su Milan-Palermo. Una sconfitta a San Siro ad opera del Milan, che Palermo ha visto lei? Un Palermo buonissimo, la colpa del secondo gol, cioè il signor Sorrentino, perché si è spiazzato un po', se lui si spiazzava a centro dalla porta, Martiro lo prendeva. Quindi dobbiamo cambiare portiere? No, cambiare portiere niente, è stato lui la colpa, perché se lui si spiazzava meglio, Martiro lo prendeva. Il Palermo è stato sconfitta in San Siro, ma non lo meritava però. Prima di tutto perché l'arbitro è come quello, c'era Berlusconi in Pantina, in Cebbuna, e allora doveva fare quello perché il caccia di posizione non c'era, per quanto hanno pure squalificato l'allenatore, perché reclamava sempre con quel tuo uomo, gli ha dato una telefonatina e quello l'ha buttato fuori. Io non avrei venduto un giocatore a 20 anni per uno a 30, è una cosa che secondo me è stata troppo sbagliata. Il Palermo in attacco adesso è, diciamo, cioè non c'è l'attaccante di peso, che Gilardino non è ai tempi di una volta. Il Palermo si meritava addirittura, non dico il pareggio, ma tutto sommato una vittoria ci stava pure, che il Palermo ha giocato bene. Dove può arrivare questa squadra? Per me, non ti dico la verità, per me è quattro posto, quinto posto sì. Vabbè, il Palermo diciamo che se lo meritava la vittoria, è che per colpa dell'albito, secondo me, in mio parere, è andato a finire il pareggio. Poi il difesa di Palermo, cioè, era un po' pure scarsa. Minchia, è qua pure. Allora, lui ha detto, quello tempo che era lui difende il Palermo, però in quel momento aveva il Palermo peggio, però lui voleva il Palermo vincere, però è stato così. Prostima noi vogliamo soltanto, ha visto l'anno che è passato, come ha segnato il paletterio, ha visto? Come ha segnato che ha levato la maietta, ha visto? Prostima facciamo così, non ti preoccupare. Bisogna andare in Champions, perché il Palermo, l'anno scorso, due anni fa, era forte quando ha levato i giocatori tipo Luca Toni, era una squadra. Ora, evidentemente, però il Palermo, come piazza, ha bisogno della Champions League. Magari i periminari, io sono un carissimo tifoso del Palermo, non vado allo stadio perché lavoro, quindi non c'è il tempo, diciamo, necessario per andare allo stadio. Forza Palermo e dispiace per la sconfitta, ci rifaremo. I commenti dei tifosi sono sempre coloriti, ma sono assolutamente graditi qui a Rotocalcio, non metteremo mai bavaio a nessuno e quindi quando ci vedrete spuntare con le telecamere di Tele One, non preoccupatevi, potete dire tranquillamente tutto quello che pensate, purché naturalmente si usino termini civili come siete abituati a fare. Adesso è il momento di riassumere un po' di numeri, perché è importante non perdere di vista dopo quattro giornate quello che è accaduto nel campionato di Serie A. Per cui è prezioso il riepilogo di Maura di Girolamo con la classifica. Sì, grazie Tony. Al primo posto abbiamo l'Inter con 12 punti. Torino 10, Fiorentina 9, Roma e Sassuolo 8, Chievo, Sampdoria e Palermo 7, Milan e Lazio 6, Napoli ed Atalanta 5, Juventus ed Empoli 4, Verona, Genoa, Bologna e Udinese 3, Carpi 1. Chiude la classifica il Frosinone, ancora 0 punti. Grazie Maura per averci riassunto quella che è la classifica. Simone, certamente questa non è una classifica reale, però per quello che si è visto in queste prime giornate già si cominciano a delineare un po' di situazioni, cioè quali sono quelle squadre che dovranno lottare sino all'ultimo per non retrocedere, quali quelle che, soprattutto dal discorso che ci riguarda, dovranno mai abbassare la soglia, perché è vero che in questo momento stanno nella parte sinistra della classifica e se finisse così, firmeremmo tutti per avere questo tipo di posizione. Insomma, un tuo giudizio un po' in generale su questa classifica della Serie A. Ma io dico che ancora bisogna aspettare 5-6 partite per avere un quadro leggermente più delineato, perché bisogna considerare una cosa, l'Inter per ora è a punteggio pieno, è l'unica squadra ad essere a punteggio pieno, ma è una cosa un po' paradossale, è in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, una squadra che ha cambiato ben 10 undicesimi della sua squadra titolare, è una cosa veramente incredibile, soprattutto considerando anche il netto ritardo della Juventus, che è riuscita ad ottenere la prima vittoria praticamente l'altra volta nella scorsa partita contro il Genoa a Marassi. E poi mi sorprende questo ritardo, anche se è un ritardo molto recuperabile della Roma, la Roma ha un grande problema che si chiama Totti, va bene, decantatelo tutti, 300 gol in Serie A, campione, eccetera, eccetera, però quando non gioca Zecco, la Roma non riesce a verticalizzare bene il gioco, infatti domani vedrete che secondo me con Zecco in campo qualcosa di diverso si vedrà. Anche se qualcuno si chiede se Zecco riuscirà a fare più gol di Michelangelo Rampulla. Boh, questa è una domanda legittima, per me è un grandissimo centravanti, insomma dovremmo vedere, sarà poi il tempo a dirlo. Se il Palermo ha realmente i punti che merita. Eh, io l'ho detto prima. Perché io presumo che forse nelle prime due partite un po' di fortuna l'abbiamo avuto. Sicuramente. Nelle altre due partite non mi è sembrato un Palermo brillantissimo, forse il Palermo in questo punto del campionato potrebbe, meriterebbe meno punti, Sergio. Credo, no, credo che comunque i limiti del Palermo si sono visti col Carpi, non col Milan. Perché a fronti una matricola come il Carpi, che comunque per quanto il Palermo ci ha perso sia in Serie B, ha perso in Serie B sia all'andata che al ritorno, è sempre una squadra modesta, che se il Palermo non vince in casa queste partite, che noi tutti sappiamo quanto siano difficili, attenzione, perché io prima della partita ho detto non vi immaginate che questa partita sia una partita facile. Il Palermo dovrà lottare. È stata presa all'inizio così con molta, non dico con superficialità, perché il Palermo è passato subito in vantaggio con un'azione bellissima. Forse quella è stata uguale. Appunto, è passato subito in vantaggio e ha abbassato subito la guardia. E sono venuti fuori i limiti della squadra. Visto un po' troppa accademia nel primo tempo. E mi è sembrato di vedere un film degli altri campionati scorsi dove il Palermo partiva in quarta e poi con queste squadrette trova la difficoltà. Esatto. Sergio, ha detto giustamente Simone che il problema della Roma si chiama Totti Averne. Di quei problemi secondo me c'è anche un altro problema che si chiama Rudy Garcia, perché forse con un governatore tipo Castori, Sarlio Iacchini avrebbe il doppio dei punti. Sicuramente non pensiero a mio personale, ma probabilmente nel Palermo ci sono altri problemi. Qualcuno è stato evidenziato, ma forse un problema può essere proprio il nostro vulcanico presidente, che qualche cosa l'ha detta senza mandarla a dire. Un breve riassunto di ciò che è accaduto in questi giorni con le dichiarazioni a Zamparini da parte della nostra redazione. La parola a Luca e Gerry. Sì, Zamparini nel corso di un'intervista rilasciata al giornale di Sicilia ha parlato di un Palermo piuttosto sottotono. Sottotono a causa di un problema di atteggiamento, approccio nei confronti della gara, ma anche proprio di condizione atletica e quindi non di una mancanza di uomini, come invece spesso ha ribadito Iacchini. Diciamo che lo stesso presidente Rosanero si è detto molto dispiaciuto per l'assenza, per l'infortunio capitato a Djurjevic contro il Milan, però ha professato ottimismo, perché secondo lui sia Kwaizan che Traikovsky possono comunque ricoprire il ruolo di prima punta e alternarsi o giocare alle spalle di Girardino. Ha detto anche la sua per quanto riguarda la difesa. Lazar per lui non è adatto nella difesa a quattro come terzino e ha ovviamente proposto le valide alternative, essendo Lazar un esterno alto che non difende quasi mai, possiamo così dire, come ha detto il presidente. Le alternative sono Edoardo Goldaniga o ancora meglio il marocchino Abel Navid El Cautari, che però dovrebbe essere spostato dalla zona centrale della difesa a sinistra appunto. Per Zamparino occorrono quattro punti nelle prossime due partite senza sottovalutare il Sassuolo. Sassuolo che arriverà domani a Palermo e avrà tra i suoi un giocatore che il Palermo ha trattato quest'estate, Gregor De Fell. Zamparini ha il dente avvelenato per appunto la questione De Frel con Giampiero Pocello. Approfondiremo questo argomento. Intanto qualche messaggio da casa è già arrivato attraverso il modulo di contatto che è il nostro WhatsApp, il numero lo vedete in sovraimpressione. Maura, a te la parola. Ci scrive Carmelo Finalmente si parte alla grande con una sorpresa gradita con il studio Alessandra Traina che ricordo ai tempi belli della trasmissione tifosi. Sarà un valore aggiunto a Rotocalcio. Seconda parte di Rotocalcio approfondiremo qualche argomento perché insomma è piuttosto interessante partire da Milan-Palermo ma i nostri ospiti e il nostro direttore stanno approfondendo anche su quello che è il cammino del Palermo in queste prime quattro giornate. È importante guardare al passato per proiettarsi al futuro. Ma di presente dobbiamo parlare in questo momento perché il calcio non si ferma avete all'inizio che c'è un importante turno di Serie A che si giocherà domani con un anticipo che invece si sta già disputando questa sera e tra l'altro c'è in corso anche il campionato di Serie B. Cosa sta succedendo? Luca Bucceri Cominciamo con il Milan nell'anticipo del turno infrasettimanale Sì, sono io Il Milan sta battendo fuori casa all'Udinese per 3-0 le marcature portano firma di Balotelli al quinto minuto Bonaventura al decimo e al trentatresimo Zapata il difensore del Milan ovviamente non l'attaccante dell'Udinese E andiamo velocemente a guardare i risultati della Serie B con il Trapani in questo momento impegnato a Como contro appunto il Como il risultato è sullo 0-0 su tutti i campi più o meno il cinquantesimo minuto Avellino Novara 0-0 Brescia Provercelli 1-0 Cesena Modena 1-0 Como Trapani come detto 0-0 Crotone Bari 2-1 Entella Cagliari 1-1 pareggio tra Lanciano e Vicenza 0-0 in Latina vince 1-0 sull'Ascoli Pescara vince 1-0 sulla Saternitana Saternitana in 10 uomini e chiude Spezia Perugia 1-0 Naturalmente poi ci sarà riassunto dai finali perché le partite di Serie B dovrebbero terminare più o meno prima della nostra sigla forse riusciremo a darvi anche il finale da Udine anche se il risultato è abbastanza delineato Torniamo alle cose di casa Rosa Nero qualche singolo ha detto già Simone come Gonzales sta un po' stentando a trovare la condizione ma io vorrei un attimo che Michele e Sergio ci parlassero di colui il quale dovrebbe essere il trascinatore di questa squadra questa squadra è stata costruita attorno al nostro fenomeno a Franco Vasquez che devo dire è un mio pensiero ancora una volta ma l'ho trovato davvero molto irritante nella ricerca della giocata preziosa a Milano quando magari si poteva servire un compagno con un facilissimo passaggio in orizzontale e questo ha costruito più volte le ripartenze del Milan hai detto bene Tony è irritante è irritante perché probabilmente troppi complimenti gli hanno fatto male io capisco che lui essendo un giocatore di qualità debba mettere in mostra la sua mercanzia però è anche giusto che torni a fare il giocatore che gioca anche per i compagni l'anno scorso più che altro dialogava molto con Di Bala quindi si divertiva con Di Bala però faccia meno il fenomeno secondo me torni un attimino sulla terra perché gioca ancora nel Palermo non è a livelli non è in un palcoscenico europeo eccetera che deve fare vedere dei numeri eccezionali lui deve giocare per la squadra per il gruppo altrimenti dico c'è anche la panchina ci sono giocatori in panchina che possono benissimo sostituirlo certo non avranno le sue qualità però sicuramente magari possono fare più gruppo e possono giocare meglio per i compagni e con i compagni ma io credo invece che quel tipo di giocatore là nel DNA quel tipo di giocata quelle giocate là anche se tante volte possono essere magari superflue che non vanno in porto però fondamentalmente è questa la cosa la cosa di Vasquez lui è un creativo ti inventa la giocata e ti può risolvere la partita come ha fatto a Udine per cui sai portarlo sulla terra e fargli fare quello che possono fare altri calciatori che non hanno il suo talento mi sembra come snaturarlo un poco e questa è la verità quando in una partita prova 4-5 volte a fare il tunnel all'avversario quando magari prova a tirare di smarcare il giocatore solo a fianco a lui ma ti ricordi Pastore che faceva quei tunnel e quei colpi di tacco e tante volte andavamo su tutte le furie perché magari però poi quando riuscivano davano davano gioia e davano esatto è così Vasquez è questo l'abbiamo visto prima di parlare con Simone di qualche altro singolo lui è un fine osservatore anche di tattica e quindi lo coinvolgerò sul centro campo beh vogliamo proporvi le pagelle come ha già anticipato Michele Sardo durante la prima parte le pagelle quest'anno non le facciamo noi che siamo operatori delle informazioni ma le fate voi le fate voi con i vostri commenti che andiamo a raccogliere in giro per la città non soltanto nei mercati saremo anche nelle piazze più importanti o nelle viuzze più o meno conosciute cercheremo di raggiungervi tutti per cui le pagelle del tifoso nel servizio realizzato dalla nostra redazione con il microfono di Gerry Fazio i migliori e i peggiori del Palermo in Milan-Palermo Samparini secondo me il peggiore sì e Iachini perché? perché secondo me non vanno più d'accordo sono di Caldi sì invece i migliori? i migliori Ile Caldi che ha fatto delle belle stime e Ile e Gialardino gli ha dato delle belle A sì sì honestamente ha fatto una buona partita e siamo orgogliosi dei due allora ci dici i migliori in campo del Palermo in Milan-Palermo i migliori Ile Mark che ha fatto già tre gol in campionato e i peggiori Gonzales Palermo i migliori sono stati Girardino Ile Mark i peggiori sono stati Gonzales secondo me non le è piaciuto non tanto anche se è un buon terzino però non non ha giocato bene diciamo i migliori e peggiori del Palermo in Milan-Palermo no non l'ho vista la partita mi sono addormentato partita noiosa no noiosa no allora perché si è addormentato le due mi sono addormentato non so che ha fatto il Palermo io le c'è come Vasquez come il Marlo il Marlo mi ha fatto pure il gol e ha accettato pure il portiere Sorrentino Gerardino pure Gerardino pure bravo come giocatore solo che se si deve inserire ancora come come schema tattico nostro poi tutto sta entrare in partita quello biondo non mi ricordo come si chiama in questo momento ecco questo di qua e poi c'era un altro giocatore pure che era pure Cassio il Palermo è una bellissima squadra il peggiore invece? il peggiore anche magari il portiere che ha fatto fare un gol che è impossibile si poteva prendere quello gol il più attualmente il Marlo è il migliore Gilardino Sorrentino eccetera eccetera invece il peggiore secondo lei? il peggiore è un presidente Zamparini perché? che è un c***o aiutalo non vuole spendere i pezzi il colorito linguaggio di questo tifoso ha identificato nel peggiore in campo il presidente Zamparini perché non vuole scucire danari d'altra parte Gliachini qualche rinforzo l'aveva chiesto ci sono delle dichiarazioni che sono state riportate dalla nostra redazione rispetto a questo Palermo lui continua ad avere molta fiducia nell'organico che ha a disposizione Gliachini però ci sono delle considerazioni da fare rispetto a questo organico perché un paio di elementi stanno giocando certamente al di sotto le loro possibilità mi riferisco Simone per esempio a Lazare che questa estate è stato cercato da grandissimi club e non ultimo il Monaco è stato voluto trattenere qui a Palermo però insomma non riesce a dare il contributo che eravamo abituati a vedere ma innanzitutto la voce relativa all'interesse del Monaco è vera però le cifre da quello che mi risulta non sono proprio quelle che sono uscite dai giornali si era parlato in primo momento 12 milioni poi ho letto 14 e mezzo più bonus erano un po' di meno tant'è che il Monaco aveva innanzitutto concentrato le sue attenzioni su un altro giocatore Lazare era la seconda scelta poi fortunatamente io ribadisco fortunatamente il Palermo è riuscito a trattenerlo allora l'aggettivo usato prima da Michele ossia irritante io lo sposterei proprio sull'oggetto attuale della nostra disquisizione vale a dire Lazare perché sì Lazare a tratti è veramente irritante guarda un po' troppe partite di CR7 di Cristiano Ronaldo lui è un giocatore che ha un'ottima tecnica di base mi riferisco a Lazare però prova troppo spesso l'elastico il doppio passo quando in una zona così delicata del campo soprattutto lui che non sa fare la fase difensiva può perdere una palla due palle tre palle che risultano essere poi sanguinose specie contro un Carpi che viene giustamente qui con la mentalità da provinciale chiudendosi a Riccio per poi ripartire ecco Lazare deve capire che è un ottimo giocatore ribadisco in previsione futura ancora molto da imparare soprattutto dal punto di vista tattico ma in previsione futura è uno dei migliori esterni sinistri a livello europeo ragazzi di centravanti di fantasisti e se ne trovano a bizzeffe ma andate a vedere anche in Italia anche fuori dai confini nazionali esterni sinistri veramente bravi molti sono adattati in quel ruolo molti sono adattati lui è naturale chiudo quindi Lazare deve migliorare anche se a me piace molto come giocatore però per ora deve migliorare tantissimo dal punto di vista tattico e mentale volevo tornare non per fare polemica con il mio amico Michele su Vasquez Vasquez ha ragione Sergio Vasquez è un giocatore estremamente umorale sia dal punto di vista del suo gioco sia da quello che riesce a trasmettere è un giocatore che a volte si prova la giocata di troppo prova a giocare di Fioretto quando in alcuni momenti probabilmente si dovrebbe giocare di sciabola però è un fantasista esagera esagera ma è un fantasista non puoi chiedere chiedere a un giocatore del genere di coprire di più allora bisognerebbe costruire una cerniera migliore dietro questo sì ma fallo quando vinci 2-0 quando vinci 3-0 si parlava prima credo Tiberio che parlava del centrocampo che ci sono tanti elementi prima Rigoni quindi Iliamark che stanno trovando con più facilità la via del gol forse non funziona qualcosa non è che non funziona qualcosa è il modulo ed è quello che chiede Iachini il dictat Iachini Rigoni prima di conoscere Iachini aveva fatto 4 gol in 4 stagioni a Chievo con Iachini ne ha fatti 9 Iliamark ne ha già fatti 3 non è che fosse sotto il profilo realizzativo un grande fenomeno perché? perché le mezzale sono trasformate nei tempi di inserimento in maniera diversa da Iachini e hanno molta più libertà di movimento soprattutto per via centrale Rigoni qua come si dice a Palermo e come dicono anche a Parigi si sta facendo i bagni perché rispetto a quando giocava nel Chievo Verona ha molta più libertà soprattutto nelle palle inattive e ha quella licenza tra virgolette da killer di poter far male cosa che prima non poteva fare quindi non è sbagliato vedere dei centrocampisti che si inseriscono così il problema è che noi non abbiamo un buon filtro a centrocampo inevitabilmente la coperta di Linus se tu hai dei centrocampisti che offendono tanto difendono poco bisognerà trovare gli equilibri tifosi da casa ci scrivono abbiamo qualche messaggio per cui Maura velocemente ce ne riassume un paio abbiamo Aurora che ci scrive contro il Milan ho visto un Palermo completamente senza idee che non riusciva a realizzare due passaggi di fila a parte le due occasioni che hanno scaturito i gol colpa di un centrocampo che non riesce a dare un'inventiva e mi riferisco soprattutto a Iaialo e Ciocev che erano dei fantasmi ci scrive Giulia da Palermo secondo me la sconfitta subita contro il Milan ci servirà per impegnarci e per capire dove dobbiamo impegnarci forza Palermo sempre non deve mai mancare assolutamente la fede rosa nero perché essere tifosi significa avere equilibrio non esaltarsi per un filotto di vittoria non è tantomeno sconfattarsi o scoraggiarsi per qualche sconfitta che durante un campionato ci può stare abbiamo parlato un po' dei peggiori di quelli che sono stati in questo inizio del campionato un po' i deludenti poi magari il mio peggiori poi te lo dico poi ti faccio tornare sui peggiori per adesso vorrei andare un po' sui migliori e sui migliori ci voglio andare con il meglio che possiamo avere a protocalcio che sono i nostri tifosi che oltre a seguirci con grande passione vengono anche a trovarci in studio vi do qualche nome poi se volete magari ne integrate con qualcun altro dico Iliemark dico Gilardino e dico anche questo ragazzo naturalizzato francese marocchino insomma sempre giocato in Francia che è il Cautari che si è inserito molto bene nella difesa davvero sorprendente gestisci un po' questi nomi Alessandra Iliemark Tiberio sicuramente non si può dire nulla il migliore dico tre gol in due partite insomma sì certo di sicuro con la parte realizzativa ci siamo penso che sulla difesa effettivamente l'unico che ha dato una grossa mano lì dietro è stato il Cautari adesso non mi ricordo come dice il termine per quanto riguarda l'attacco siamo sempre lì io riallaccio anche la risposta di Simone per quanto riguarda la mia di risposta il problema è proprio questo la copertà di Linus non abbiamo un giocatore che sa interdire lì dietro il centrocampo con un basket così tra virgolette fantasista ha bisogno di qualcuno che interromperti Tiberio scusami finisco una cosa anche per terminare il concetto riguardo Maresca Maresca è un giocatore che al momento sembra sotto attacco di Iachini nel senso che Iachini non lo vede di buon occhio Maresca comunque i suoi anni di esperienza ce l'ha e forse potrebbe avere un'opportunità in più da parte del mister proprio su questo volevo interromperti Tiberio e ti faccio una domanda visto che ho capito che insomma te ne intendi un pochettino di calcio considerato che Iaia lo fa il suo compitino e quando è un po' sottotono questo compitino esce fuori come un tema che non si sa che svolgimento abbia l'innesto di Maresca che è giocatore di grande esperienza ma che non può certamente supportare tutto il campionato è quello di quel giovane ragazzo che si era molto ben distinto pre-campionato e durante lo scorso campionato di B come Bungman potrebbero essere dunque auspicabili secondo te? Sì soprattutto il primo quindi soprattutto ritornando sempre al discorso Maresca perché Iaia lo è un giocatore a corrente alternata più verso il basso che verso l'alto Maresca di sicuro ha più una linea più produttiva tra virgolette più coerente non è mai stato un giocatore sicuramente mostruoso però è sempre uno che si fa tra virgolette il mazzo quindi io punterei sul discorso sul discorso Maresca magari col Sassuolo proprio per vedere se effettivamente c'è un cambio di rotta dal punto di vista del centrocampo riguardo l'impostazione o riguardo l'interdizione Non sono d'accordo su Iaialo nel senso che secondo me non è a corrente alternata secondo me si sta provando a farlo giocare in un ruolo che non è suo lui è un bravissimo centrocampista che è da geometrie è un giocatore che è bravissimo nel passaggio in orizzontale ma non è bravo a verticalizzare non è un regista quindi nel momento in cui lo impieghi in un ruolo che non è suo naturalmente diventa discontinuo o comunque non è efficace Sono perfettamente d'accordo La brutta copia del rigore dell'anno scorso Concluiamo ancora con i tifosi Alessandra Sì Elio invece per quanto riguarda i peggiori tu cosa ne pensi? Beh diciamo che dispiace dirlo ma penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che Gonzales sia stato uno dei peggiori in campo nonostante appunto il terzo gioco sia anche un po' merito suo e la Zara sicuramente non era nella sua giornata migliore e mi dispiace anche dirlo Iaialo mi rilaccio un po' anche a Tiberio che non dico che non sia nel suo ruolo diciamo che il ruolo diciamo in cui stia giocando adesso non sia quello adatto a lui magari insomma le geometrie insomma vanno un po' cambiate vedremo insomma Anko Saiachini cercherà di cambiare anche e soprattutto domani con la partita con il Sassuolo c'è un passaggio che mi piace sottolineare di Milan-Palermo perché con l'ingresso di Girardino stante insomma l'infortunio purtroppo accorso a Diurgevic io ho visto un altro tipo di Palermo Sergio Girardino ha toccato un pallone con grandissima esperienza e con grandissima classe devo dire e ha messo Ilemark davanti alla porta merito certamente del modulo di Iachini come diceva Simone perché questi questi interni fanno le mezzale stile vecchia maniera devono quindi inserirsi e fare un po' le seconde punte ma grande merito anche a Girardino che ha preso in contropiede tutta la difesa rossonella che l'ha schierata infatti Girardino non lo stiamo scoprendo noi Girardino è stato un grande campione che ha veramente che ci ha fatto vedere cose bellissime e quando è stato domenica ci ha ci ha fatto vedere una delle sue giocate ha fatto quest'asti quest'assist questo 1-2 è velocissimo che ha dato la possibilità a Ilemark di andare a segnare per cui Girardino io ho sempre detto tutti si lamentano di questo di questo cambio di Belotti con Girardino abbiamo cambiato un uomo un ventenne con un trentenne però forse Palermo che negli ultimi anni ha avuto sempre queste giovane leve questi questi giocatori molto giovani privi di esperienza magari pur ricchi di talento secondo me ha bisogno da tanto tempo ha bisogno di un giocatore di esperienza uno che possa guidare il reparto che possa dare consigli ai giovani su come poter così migliorare affrontare le partite per cui io la vedo molto bene questa cosa questo arrivo di Girardino tra l'altro sottolineo una cosa Sergio chiedo conforto anche a Simone beh anche nel Torino è arrivato Belotti fa il titolare Quagliarella e lui fa Quagliarella quindi voglio dire forse insistere molto su Belotti soltanto senza prendere un altro attaccante sarebbe stata un'idea non proprio brillante un rischio un rischio secondo me un rischio anche se il giocatore era molto giovane prometteva però intanto Iachini l'aveva sempre utilizzato per spezzoni di partite non l'avevamo quasi mai visto giocare per partite la stessa cosa fa Ventura a Torino appunto quindi un motivo ci sarà Simona il tuo pensiero? Allora quando si parla di Belotti io la penso in maniera contraria rispetto a tutti i palermitani perché considero Belotti un grandissimo campione vedrete diventerà uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico italiano e non solo con Ventura ancora non è titolare inamovibile ma vedrete che lo diventerà la coppia non sarà sicuramente Quagliarella Maxi Lopez ma sarà Quagliarella Belotti nelle ultime partite ha avuto maggiore minutaggio e vedrete che con un maestro con la M maiuscola come Ventura Belotti si leverà tante soddisfazioni dal punto di vista personale anche al Torino che è una società dopo il Palermo molto simpatica per la storia che è una testa alta è un attaccante vecchia però mi posso dire una cosa e chiudo il discorso su Belotti che oramai non fa io dico purtroppo ma sono pronto a prendermi le critiche non fa più parte purtroppo della Rosa del Palermo Belotti a differenza di tutte le giovani leve che ricordava prima Sergio non ha mai avuto la possibilità di sbagliare mi spiego meglio noi ci siamo scordati che in Serie B prima di esplodere Di Balac ha impiegato un campionato e mezzo quasi perché è esploso nelle tra virgolette ultime partite del girone di ritorno del campionato cadetto vi dico esattamente quale partita la partita con il Bari qui allo stadio Renzo Barbera poi c'è stata quella meravigliosa trasferta dove Iachini si è inventato Vasquez trequartista fantasista in trasferta contro la Juve Stabbia e da lì è nata la sontuosa intesa tra Di Bala e Vasquez ma non è colpa di nessuno però vi ricordo che sino a quel momento la carretta lì l'avevano tirata prima Lafferty quindi Hernandez poi Belotti c'è stato un periodo che era titolare ricordo col Trapani ricordo col Trapani era anche un campionato con il Modena se non mi ricordo male anche con il Novara è stato quasi sempre decisivo per carità poi c'è stato il passaggio anche Caracciolo è decisivo in Serie B poi c'è stato fatemi finire poi c'è stato il passaggio dalla B alla A dove inevitabilmente le gerarchie di Iachini erano chiare di Bala la nostra prima scelta Belotti il nostro tra virgolette panchinaro la nostra riserva anche se ha giocato 38 partite tutte però entrando il terzo anno che doveva essere finalmente quello o della consacrazione o dei totali errori cioè dove un giocatore deve essere messo alla prova lui questa chance non l'ha avuta quindi noi resteremo sempre con il dubbio io sono contentissimo dell'arrivo di Gilardino e vi dico di più meglio in una piazza come Palermo avere un 30 barra 33enne come Gilardino perché dà paradossalmente più continuità al progetto perché prendi un ragazzo di 20 21 anni fa bene una stagione poi se ne deve andare via mentre Gilardino se le cose vanno bene può rimanere qua due o tre anni e finire qui la carriera però sono giocatori completamente diversi sono d'accordo con Tony non soltanto per l'assist non soltanto per l'assist che abbiamo visto per Iliemark contro il Milan ma anche il gol che ha fatto lo stesso Iliemark contro il Carpi nessuno lo sottolinea ma è il 95% merito di Gilardino non aggiungo più niente è vero però Michele allora proprio agganciatemi al discorso Gilardino Belotti Iachini aveva detto voglio un altro attaccante oltre Gilardino che è il benvenuto perché secondo secondo quello che erano le sue intenzioni Belotti doveva essere il titolare con Gilardino pronto a subentrare o comunque in qualche partita magari li avrebbe provati insieme poi qualcosa è andato storto noi abbiamo avuto tramite la nostra redazione indicazioni certe che Marcello Trotto era pronto a mettersi addosso alla maglia rosa i pantaloncini ne aveva già indossati ma all'ultimo giorno di mercato Zamparini ha detto no allora io proprio dico riagganciandomi al discorso del peggiore in campo o comunque al peggiore in assoluto fino ad ora per me il peggiore è stato Zamparini già da agosto anche comunque luglio-agosto già un periodo di mercato non diciamo che il mercato era andato fino a un certo punto bene l'ultimo giorno di mercato ovvero il giorno dopo di Palermo di Nese Zamparini si è alzato è sceso probabilmente dal lato sbagliato del letto ha chiamato Gerolin e gli ha detto siamo forti così non compriamo più nessuno quindi Gerolin si è presentato davanti il procuratore di Trotta con cui aveva appuntamento a Milano proprio per firmare per ufficializzare l'offerta per Trotta offerta che doveva essere per forza accettata perché nel contratto con Lavellino di Trotta c'era una clausola dove c'era scritto che se fosse stata raggiunta quell'offerta Trotta doveva essere per forza ceduto quindi era un accordo con i procuratori l'offerta c'era non era stata ufficializzata quella mattina si presenta Gerolin dicendo il presidente ha detto che siamo forti così non abbiamo bisogno di nessun altro la stessa cosa per l'esterno destro che Iacchini aveva richiesto oggi ci ritroviamo purtroppo per colpa di Zamparini perché la colpa è sua che non ha voluto acquistare un altro attaccante e non ha voluto acquistare un esterno destro ci ritroviamo con Rispoli che probabilmente non è all'altezza della situazione abbiamo visto un Palermo che ha giocato solo al lato sinistro nel primo tempo della partita contro il Milan perché Rispoli probabilmente non è considerato all'altezza da parte di Iacchini e non l'ha schierato Morganella che è infortunato ai legamenti Giurgevic che si è fatto male e abbiamo un giocatore di 33 anni che è assolutissimamente un grandissimo acquisto che però ha 33 anni e probabilmente non ha i 90 minuti sulle gambe in tutto questo non fa altro che stressare il nostro allenatore che in questo momento probabilmente sta perdendo il bandolo della matassa i giocatori probabilmente questa cosa la sentono e probabilmente essendo giovani non seguono più il loro allenatore così come dovrebbero allora a questo punto secondo me il peggiore in questo momento è Zamparini proprio per tutti questi motivi Bene io passerei subito la parola alla redazione perché c'è molta attualità questa sera come dicevamo ci sono in campo tutte le squadre di serie B e ci sono Udinese e Milan in serie A vediamo se qualcosa di rilevante è cambiato dalle parole di Gerry e Luca Sì Tony il risultato al Friuli cambia cambia in maniera vistosa con l'Udinese che ritorna in partita il risultato è sul 3 a 2 per il Milan ha risposto ai golli precedentemente detti Badu è proprio in questi secondi Duvan e Zapata quindi ribadiamo il risultato al Friuli Udinese 2 Milan 3 invece per quanto riguarda il Trapani il risultato è fermo sullo 0 a 0 come Trapani siamo al 74 minuto e carrellando nei risultati della serie B ancora una volta Avellino-Novara 0 a 0 Brescia-Provercelli 2 a 0 Cissena-Modena 2 a 0 Como Trapani come detto sullo 0 a 0 il Crotone dilaga sul Bari 3 a 1 Entella-Cagliari 1 a 2 Lanciano-Vicenza ancorati sullo 0 a 0 il Latina vince ancora contro l'Ascoli 1 a 0 pareggio della Salernità in 10 uomini a Pescara contro appunto il Pescara 1 a 1 Spezia-Perugia 1 a 0 Bene torniamo in studio terza parte affronteremo ancora argomenti riguardanti il Palermo perché domani si gioca ma vogliamo fare un tuffo nel passato vi ho presentato ad inizio della trasmissione due pilastri portanti l'informazione il commento sempre puntuali precisi e assolutamente senza alcun tipo di bavaio quello che è la voce che a noi sta più a cuore è quella dei tifosi cioè quello dei quali pagano il biglietto per fruire di uno spettacolo c'è un altro pilastro che noi non tralasciamo che è quello dedicato alla memoria al passato e anche quest'anno ci avvariamo della preziosissima collaborazione di Rosanero Storia nella fattispecie Roberto Pedivellano ha intervistato per un inedito da spogliatoio l'indimenticato portiere del Palermo Graziano Piagnerelli non so se ti ricordi a quell'anno il primo anno ci fu quel tire molla con Amenta con Mauro Amenta sì era stato preso non voleva venire poi vengo non vengo eccetera noi eravamo in ritiro ad Archidotto e finalmente a metà ritiro avevamo già fatto affiatamento tra compagni di squadra e a un certo punto a metà ritiro vendeva Mauro Amenta e arrivò la sera la sera tardi dopo cena arrivò la notizia che noi l'aspettavamo con un secchio d'acqua sperando tra un bimbo montesano ovviamente Gasperini i quattro cio e Gorini sembra che ci fosse prima ancora non c'era io Gasperini e Montesano sicuramente c'era Egidio Galloni e l'aspettavamo sotto quando passo sotto ci facciamo il capitone e non ci facciamo vedere e qual è stata la sua reazione? ma non lo so perché non so non sappiamo cosa è successo il giorno dopo queste stesse con un un gioco poi se ne andò ovviamente non ha nessuna correlazione questo non è che uno se ne va per un gavettone all'interno dello spogliatoio i ricordi di quell'anno è rimasto che Mauro Amenta non giocò a Palermo per un gavettone fatto da questi giocherelloni dei compagni beh insomma la goliardia negli spogliatoi è assolutamente una costante poi nei ritiri addirittura Graziano Piannarelli ci ha raccontato di come aspettavano per accoglierlo Mauro Amenta nel Palermo poi Amenta nel Palermo non giocano non certamente per questo gavettone lo spirito di squadra Simone si vede anche in questo tipo di situazioni in cui si organizzano scherzo per un nuovo arrivato o per esempio come è accaduto quest'anno quando alle 7 del mattino Stefano Sorrentino si presenta all'aeroporto per andare a dare il benvenuto a Gilardino Mi è anticipato stavo per ricordare io questo episodio bellissimo di Sorrentino che è stato tra parentesi di parola io ricordo l'intervista che abbiamo realizzato per 7 gold dopo la gara con l'Avellino di Coppa Italia abbiamo fatto proprio una domanda in tal senso c'erano tante voci di mercato ma qualora dovesse arrivare Gilardino perché Belotti io ribadisco l'unico palermitano a dire purtroppo è andato via lui ha detto Sorrentino qualora dovesse arrivare sarei io il primo a volentieri ad andare a prendere l'aeroporto torno a un altro simpatico aneddoto che probabilmente molti nostri amici da casa ricorderanno con piacere quello di Berti della bicicletta e di Guidolin sapete della passione incredibile di Guidolin dopo il calcio forse addirittura prima del calcio cioè il ciclismo lui andava spesso e volentieri al campo di allenamento al tenente onorato proprio con una bicicletta Berti con spirito goliardico una volta nascose questa questa bici gli potevi dire tutto a Guidolin perché amava le personalità come dire forti eccetera ma quella bici non gliela dovevi toppare e infatti la partita successiva Berti in maniera quasi incomprensibile quindi ci sono queste cose che fanno bene al calcio e poi loro sono dei professionisti hanno tante pressioni addosso qualcuno potrebbe dire beh ci sono anche delle persone che vanno ad avere delle pressioni maggiori eccetera diverse però comunque sono anche dei ragazzi e questi scherzi eccetera fanno bene al gruppo però questo gruppo non deve essere distrutto giusto Sergio perché se c'è qualcuno all'alto che bombarda 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 insomma Michele l'abbiamo sempre detto Zamparini è croce delizia di questa squadra naturalmente negli ultimi anni abbiamo visto un presidente col braccino un pochettino più corto si è accorciato il braccio perché non possiamo dire che non ha speso e che non ci ha portato campioni non ci ha portato giocatori ma quest'anno ha avuto un attivo di 31 milioni di euro 31 milioni di diciamo chiamiamola plusvalenza in effetti tutti ci aspettavamo l'arrivo di questi due giocatori l'esterno l'esterno destro e l'attaccante è stata una delusione perché lui è così ha visto quell'inizio così esaltante e si è fatto il suo film che comunque è stato subito disatteso dalla partita col Carpi e con la scuola siamo sicuri che si è fatto il film oppure conosce bene i palermitani e sa che in quel momento i palermitani sognavano lo scudetto e pensavano di avere la più forte squadra della serie Zamparini tu lo sai come è che io ho questa paura Zamparini è un umorale Zamparini è così il giorno prima manda a quel paese l'allenatore il giorno dopo lo esalta io ho sempre difeso Iachini in questi anni e continuerò a difenderlo e l'ho detto a inizio trasmissione mi siete testimoni lo ritengo uno degli allenatori più preparati e sagaci dal punto di vista tattico strategico però in questo caso specifico non mi dilungo so Tony che la tua scaletta è lunghissima dico una cosa in dieci secondi in questo caso io sono d'accordo con Zamparini e ti spiego se il nostro allenatore giustamente perché è un modulo congeniale a lui è collaudato al massimo fa giocare una prima punta di ruolo e poi un trequartista la motivazione di andare a prendere 840 attaccanti non la vedo sono d'accordo per il laterale per il laterale destro le alternativi infortuni con chi giochi dobbiamo metterci d'accordo Vasquez è comunque un giocatore che è considerato non è una punta ma non è un ultimo come giochi abbiamo vinto anche mettendo tra i coschi più avanzato c'è Queizon che ha giocato praticamente le ultime partite in questa fase di precampionato prima dell'inizio della stagione della regular season è stato provato da seconda punta o in alcuni momenti in alcuni momenti barra movimenti anche da punta centrale seppur atipica perché non è strutturato per fare la prima punta l'attacco di conti potrebbe anche stare l'esterno destro perché non la conti là sono d'accordo anche perché si poteva prendere un giocatore perché gli ha fatto il contratto triennale però ragazzi c'era Scalotto chiuso ho capito la trattativa era chiusa non è che Iachini Iachini avesse chiesto Maicon D'Alma Santos o Cafu ha chiesto Zambelli un giocatore che giocava nel Brescia e che poi adesso sta ancora giocando ma voglio dire a Palermo poteva arrivare tranquillamente potrebbe essere un altro a me risulta a me risulta chi avesse chiesto oltre che Zambelli che pure mi è arrivata questa voce soprattutto nell'ultimo periodo Schelotto che era un giocatore credetemi che avrebbe fatto molto bene al Palermo soprattutto in attesa di Morganella però è pur vero che la voce non era soltanto un rumors era vera Schelotto che oramai si deve giocare gli anni più importanti della carriera chiedeva garanzia di titolarità quando rientrerà Morganella nella speranza che possa tornare il Morganella che abbiamo conosciuto il titolare sarà lui e quindi Schelotto Morganella non era ancora sotto contratto non capisco perché andare a fare un contratto a Morganella che comunque ha rotto i legamenti eccetera Morganella è uno dei pupilli di Iachini subito dopo Vasquez e Rigoni Morganella è la come dire la presentazione in campo di quelli che sono novembre dicembre secondo me è metà novembre per quanto riguarda il gioco profuso in campo sì per quanto riguarda le qualità tecniche per me Schelotto è di un altro pianeta sì però siamo sempre lì è un giocatore che ha plasmato Iachini Morganella è diventato allora ti prendevi risco scusami levavi il risco e ti prendevi Schelotto però ragazzi abbiamo un quarto abbiamo un quarto per andare alla fine durante le prossime puntate sicuramente torneranno questi argomenti Michele un presidente che invece non ha lesinato a spendere nonostante sia presidente di una società che rappresenta una città di 50 mila abitanti e squinzi Sassuolo è squadra ben rodata ben allenata perché di Francesco è un altro di quegli allenatori che metterà nel numero dei più bravi della serie A Simone quest'anno ha ceduto qualche pezzo come Zaza che è tornato alla Juventus si va a prendersi De Frelle che è un giocatore che è stato inseguito dal Palermo ha tenuto i migliori insomma il Sassuolo domani viene a Palermo per farsi la sua migliora partita e saranno ovviamente problemi che vedremo in campo per il Palermo qualora la partita dovesse fare il Sassuolo malagoratamente dovesse passare in vantaggio il Sassuolo è una squadra furba il Sassuolo non è una squadra che fa grandissima manovra gioca moltissimo con i passaggi lunghi e cerca sempre di rompere il gioco sulla tre quarti avversaria se si fa attenzione nelle zone neuralgiche quindi tra la difesa e il centrocampo se si fa attenzione in quella zona il Sassuolo potrebbe paradossalmente essere un avversario più semplice rispetto a un Carpi che è venuto qui a fare le barricate bisogna fare attenzione a questo tipo di gioco che fa Di Francesco che tende a spezzare le manovre quindi a ripartire subito a tirare in porta velocemente insomma a sorprenderti e a sorprenderti intanto vediamo come si presenteranno in campo domani Sassuolo e Palermo perché la nostra redazione ha le ultimissime informazioni rispetto alle formazioni nel Palermo c'è tra l'altro per sottolineare una importante defezione Luca Gerri Sì Toni come hai ben detto nel Palermo oltre alla defezione certa di Uros Giurgevic che starà ai box per lungo tempo per lui giovedì mattina l'operazione alla caviglia destra non ci sarà nemmeno Stefano Sorrentino Stefano Sorrentino che ha avuto dei problemi dei guai fisici nel match contro il Milan 24 sono i convocati dal mister Giuseppe Iachini in vista del match di domani non figura Stefano Sorrentino i tre portieri chiamati da Iachini sono Marson Alastra e Colombi con quest'ultimo che prenderà il posto del capitano Rosanero in porta Sì per quanto concerne la formazione che dovrebbe mandare in campo Iachini appunto prevede Colombi tra i pali linea difensiva a quattro con Struna Gonzales El Cautari e Lazare centrocampo a tre schierato a rombo con Inemark Iaialo e Rigoni poi Vasquez dietro le punte che dovrebbero essere appunto Quaisson e Girardino grazie per queste informazioni prima di interpellare Simone e Sergio su come si dovrà affrontare questa partita qualche messaggio che arriva da casa naturalmente la parola Maura Sì abbiamo Massimo che scrive ho sempre ammirato Zamparini per quello che ha fatto qui a Palermo però in questo caso sono completamente d'accordo col direttore Michele Sardo perché non si può vendere belotti e non comprare un altro attaccante e andare contro le volontà del proprio allenatore che in fondo aveva chiesto due rinforzi tutt'altro che esosi ora ci ritroviamo con un reparto d'attacco molto scarno solo per la sua prepotenza e secondo me Iachini ha detto no al possibile acquisto di uno svincolato proprio per le decisioni errate della società durante il mercato che ne pensate? Sì svincolati poi magari adesso Michele ci ragguaglierà meglio ancora un altro messaggio Maura Sì ci scrive Giorgio scusate ma i soldi di Di Balla dove sono finiti? Eh bella domanda io sentirei anche i tifosi rispetto a Palermo Sassuolo quale potrebbe essere insomma è chiaro che auspichiamo tutti quanti la vittoria del Palermo ma se davvero come i nostri ospiti considerate il Sassuolo un avversario molto molto difficile addirittura forse più del Milan Alessandra Vedi io lo chiedo a te dico il Sassuolo arriva sicuramente galvanizzato qui al Barbera anche dopo il recente incontro con la Roma Un bellissimo pareggio contro Roma ho sempre diciamo stimato una squadra come il Sassuolo nonostante l'anno scorso ricordiamo una grande partita col Milan e quindi sicuramente rispetto al Carpi e magari rispetto al Milan mi aspetto una partita molto molto più difficile sulla carta ma ovviamente io auspico sempre il bene del Palermo ma insomma sarà una partita veramente difficile Tiberio il Sassuolo è una squadra che lascia ampi spazi di gioco quindi diceva Michele contro il Carpi che insomma non lasciava alzato da una barricata il Sassuolo lascia ampi spazi di gioco quindi c'è una prospettiva di una bella partita brillante potrebbe essere un test per vedere dal primo minuto Gilardino e quello che può dare a questa squadra quindi di sicuro sulle praterie tra virgolette che dovrebbero lasciare i giocatori soprattutto i difensori o il centrocampo del Sassuolo speriamo che Gilardino possa finalmente suonare il violino rosa-nero tanto richiesto dai tifosi per quanto riguarda ho ascoltato le formazioni che hanno detto in redazione e io spero ancora in un possibile inserimento di Maresca magari nel secondo tempo comunque se la situazione dovesse essere pesante bene stai Toni grazie Alessandra grazie ai tuoi graditissimi ospiti Simone non era molto d'accordo alla lettura della probabile diciamo ovviamente probabile formazione di questa difesa a 4 contro il Sassuolo tu credi che domani Giacchini affronterà il Sassuolo in maniera diversa rispetto all'impostazione tattica che ha dato al Palermo contro il Milano no io non sono non sono diciamo non d'accordo perché purtroppo secondo me rivedremo questa non sono d'accordo con la scelta di Giacchini non con la chiave di lettura che hanno dato i ragazzi che condivido dalla redazione io dico semplicemente una cosa noi stiamo sottovalutando un giocatore a mio avviso molto importante sin da subito e soprattutto in previsione futura che è Struna Struna è stato espulso immeritatamente nella partita col Genua col Udinese pardon in realtà il secondo cartellino non c'era era inesistente è normale che ti vedi questa montagna avete presente i Fantastici 4 lui sembra la roccia quindi ti vedi questo qui arrivare e dici vabbè l'ha toccato lo ha steso lo ha buttato a terra come se fosse Mike Tyson in realtà non l'aveva neppure sfiorato ecco Struna da centrale lo ho fatto vedere l'anno scorso a Carpi può essere una vera e propria risorsa nel 352 soprattutto considerando che è un modulo a lui molto congeniale Struna può giocare da centrale una difesa 4 all'occorrenza da terzino ma ribadisco all'occorrenza non dal primo minuto e per 95 minuti e poi anche da centrale una difesa 3 Struna e questa è vera non è un'invenzione di Zamparini che questa sera nostro amico Michele è abbastanza bacchettato ma ci sta siamo in un paese fino a prova contraria libera fino all'anno scorso su Facebook qualcuno mi diceva che ero lecchino perché amavo troppo Zamparini ma ci sta cerco di essere il più obiettivo possibile Struna se non siete rifiutati ci mancherebbe altro 7 milioni e mezzo quasi rifiutati De Laurenti sarà pronto a prenderlo questo giocatore e dico considerando per me è un grande anche con Danica ora chiudo come si deve affrontare il Sassuolo avete detto tutto voi e mi trovo perfettamente d'accordo una squadra da tenere molto sott'occhio ma questo centrocampo con Iaialo che è tutto forché un regista con Iliemark e Rigoni titolari dal primo minuto due giocatori fantastici ma secondo me al momento non possono coesistere perché adattare uno su una fascia non sua sì a parte adattare uno su una fascia abbiamo visto Iliemark giocare bene quando è sul centro-destra che è un ruolo che poi magari vorrebbe ricoprire anche Rigoni chi poi deve fare i gol perché dentro l'area di rigore ci deve stare Gilardino ogni tanto Rigoni si vuole inserire lo ha fatto nove volte lo scorso anno e già due volte quest'anno uno in Coppa Italia con il Lavellino e uno nell'azione bellissima bastita da Vasquez contro Udinese e Iliemark già ha fatto tre gol perché non possono coesistere no possono coesistere al momento no ci sono dei movimenti che devi studiare bene chi copre chi fa filtra al centro-campo l'hai detto pure tu prima Iaglialo Iaglialo è un buon mediano è un mediano dei piedi buoni ma non è un regista io sono d'accordo con Tiberio mi sembra che andava a decantare le virtù di Maresca Maresca non è in questo momento più un top player un termine abusato abusiamo pure noi di questa terminologia però è un giocatore che ha esperienza è un giocatore che ha tante primavere e in questo momento di difficoltà e in questo momento di difficoltà servono gli attributi cosa che uno come Maresca può garantire ma lo stesso Maresca non è un regista no prima di concludere la nostra trasmissione con i vostri commenti finali tutto quello che accadrà domani riguarda naturalmente anche il Palermo vorrei che fosse un po' focalizzato dalla grafica e dalla voce di Maura perché c'è tutto il prossimo turno della Serie A che potrebbe dare dei connotati diversi alla classifica quindi la parola ancora una volta a Maura sì grazie le partite di domani con inizio alle 20.45 saranno Carpi Napoli Chievo Torino Fiorentina Bologna Inter Verona Juventus Frosinone Lazio Genoa Palermo Sassuolo Sampdoria Roma giovedì si giocherà Empoli Atalanta sicuramente quella era la grafica di domenica prossima ci spusiamo perché abbiamo sbagliato insomma però comunque il concetto è questo ci sono turni favorevolissimi a Juventus e Inter almeno sulla carta la Roma deve superare l'ostacolo Sampdoria a Marassi una Sampdoria sorprendente nonostante insomma in banchina ci sia Walter Zenga che continua a non far giocare Cassano e a raccogliere risultati anche se insomma a Torino le ha buscate ma credo che sia comunque un avversario da non sottolineare e poi c'è questo Palermo Sassuolo siamo quasi al termine ancora una volta la nostra redazione con credo ci siano i finali dalla serie B e naturalmente l'aggiornamento se non è finale poco ci manca da Udine partita riaperta con i due gol dell'Udinese Luca Gerry che cosa ci raccontate? Sì la serie B è quasi giunta al termine soltanto alcune partite rimangono ancora da giocare due minuti di recupero Travellino e Novara che sono sullo 0-0 poi tutti finali da qui in poi Brescia Provercelli 2-0 Cessena Modena 2-0 il Como ferma il Trapani 0-0 in casa il Crotone batte 4-1 il Bari il Cagliari vince a Chiavari per 3-1 contro Lentella Lanciano Vicenza 0-0 Latina Ascoli 1-0 Pescara Salernitana 1-0 Spezia batte invece il Perugia 1-0 Sì invece siamo all'ottantesimo minuto di Udinese Milan il risultato non è cambiato 2-3 per il Milan riepiloghiamo i marcatori che sono Balotelli Buonaventura e Cristian Zapata per il Milan nel secondo tempo al cinquantunesimo Badu e al cinquantottesimo Duvan Zapata per l'Udinese Grazie alla relazione di Palermo Sassuolo abbiamo quasi detto tutto Sergio un'ultima battuta la faccio fare a te visto che si è parlato di un centrocampo con Rigoni Giaialo Nehili e Mark nessuno di questi tre è la caratteristica del regista quindi domani bisogna assolutamente affidarsi all'estro e alla fantasia di Franco Vázquez di Franco Vázquez sì e poi dico sempre partire dall'inizio subito aggredendo gli avversari fare sentire la supremazia interna che comunque sfruttando l'effetto Barbera che è sempre il dodicesimo come in campo e niente così e metterci nelle mani di questo grande campione che insieme a Gilardino potrebbe farci portare a casa i tre punti Speriamo sarà Vázquez il giocatore importante domani sarà Gilardino arriverà l'ennesimo gol di un centrocampista di un difensore Alessandra il pronostico ai saluti dai tuoi tifosi Sì Tiberio secondo te come finirà la partita? Guarda il pronostico non lo faccio sempre per un discorso diciamo di non tenere fino all'ultimo di come si dice adesso non mi viene il termine la parola comunque meglio non dirlo il Caramanzi esatto non mi viene il termine però spero in un gol come dicevo prima di Gilardino che magari possa sbloccarsi sul visto che fino adesso si è dato agli assist magari con un gol tra l'altro io con l'occasione visto i saluti finali volevo ringraziare tutto lo staff di Rotocalcio in particolare Toni e Michele che anche quest'anno hanno voluto Vidaloga all'interno di Rotocalcio in questo caso con Maura e con una sorpresa che ha lì il nostro Toni e allora io direi che insomma salutiamo ancora una volta l'accordo con Vidaloga una partnership assolutamente di grande amicizia con Tiberio e con tutto il suo staff e le sue ragazze direi di salutare questo nostro matrimonio con un grande applauso grazie grazie Tiberio Alessandra a concludere sì Elio un ultimo pronostico per te mi accodo diciamo a Tiberio anche per Scaramanzia speriamo di una vittoria assolutamente del Palermo ringrazio perché non posso fare altro i ragazzi della redazione Rotocalcio per l'invito e un ringrazio rivolto a tutti quindi per non dimenticare nessuno grazie ancora ragazzi perfetto io diciamo che gli incontri infrasettimanali di solito da quando il Palermo è in Serie A sono sempre positivi quindi anche io penso che vincerà il Palermo diciamo 3 a 1 va bene io vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo siamo una conduttrice che dà anche il pronostico 3 a 1 porterai fortuna Alessandra se così non sarà a martedì cercheremo una sostituzione grazie grazie Alessandra grazie Tiberio grazie Michele voleva sostenere una cosa assolutamente visto che eravamo in temi di saluti volevo salutare Nini Terminelli e Andrea Salamone che non fanno più parte come avete potuto notare della nostra trasmissione però sono sempre nel nostro cuore sono amici di Rotocalcio spero che ci verranno a trovare durante la stagione per ragioni loro per motivi personali non fanno più parte di Rotocalcio però ripeto sono ancora comunque nel nostro cuore fanno parte della nostra famiglia grazie anche a Maura di Girolamo che ha esordito in televisione la prima donna dal battesimo noi siamo un po' camicazze perché le lanciamo tutte le ragazze promettente poi fanno strada fanno carriera questa cosa inorgoglisce me Michele e naturalmente anche Tiberio che ci supporta in questo la settimana prossima ci sarà l'altra ragazza che collaborerà con noi quest'anno che vedete inquadrata che è Aurora grazie e buon lavoro a tutti e due salutiamo i nostri ospiti ci rivedremo presto perché insomma una volta andiamo noi da lui perché Sette Gold insomma gli amici di quella redazione sono assolutamente i nostri amici non soltanto colleghi Simone verrà a trovarci naturalmente spesso il suo contributo è sempre molto importante e prezioso ci dà anche delle chicche straordinarie grazie mille è stato un piacere essere qui grazie con la promessa di invitarlo la prossima volta con la chitarra ma soprattutto di sentirti e venirti a trovare durante un tuo concerto non abbandonando mai la sciarpetta rosa nero è il cuore che è assolutamente rosa nero ringraziamo anche Sergio Munafo grazie grazie prima di salutare te che sei il direttore un saluto a Luca Gerry naturalmente a tutta la redazione di Rodocalcio a Giulia a Max a Sabino a Martino e a Roberto Pedivellano che ne è parte integrante un applauso facciamo io lo eh certamente grazie ancora a Rosane Rostoria a Roberto Pedivellano ai tecnici di Teleguanna che quest'anno con noi i due Giuseppe Pegnato Sergio speciale Giuseppe speciale insomma tutti quanti gli amici di questa produzione grazie al direttore però io non ho visto inquadrati Gero e Luca li abbiamo visti sì li hanno fatti vedere perché io ho di miopia e quelli che guardano che sono belli grazie a Michele Sardo quest'anno avrà bastone e carota abbiamo visto che questa sera ho usato più bastone soprattutto col presidente Rosaneo cercherò di essere più buono quando lo meriteranno però dico l'ultima battuta concedimela hanno fatto questi del Sassuolo nove vittorie no scusami nove risultati utili consecutivi speriamo Real Madrid che non vadano in doppia cifra giusto per la legge dei grandi numeri prima o poi una devono perdere sarà domani al Barbera lo scopriremo vivendo questa partita poi avremo ancora altri impegni quindi commenteremo due turni di campionati l'appuntamento è naturalmente a martedì prossimo ancora sul canale 19 con le repliche sugli altri canali del gruppo Media One vi saluta Tony Danna vi augura come sempre una buonissima settimana in rosa ed in nero il nostro abbraccio la nostra buonanotte naturalmente con il solito grido forza Palermo ciao alla prossima